Dalla scorsa settimana i pazienti dell'area Vasta 1 hanno uno strumento in più per combattere e prevenire una delle patologie più subdole che possono aggredire la persona di età avanzata. Stiamo parlando di osteoporosi. Dalla scorsa settimana infatti il Centro Promozione della Salute di Galantara, in collaborazione con la società sportiva Millepiedi, ha organizzato il corso Movimento e Sani Stili di Vita. Il progetto rientra nel piano regionale della prevenzione 2014-2018 che il Dipartimento di Prevenzione diretto dal dottor Agostini sta implementando in tutta l'area Vasta 1. Ma cos'è l'osteoporosi e chi ne è potenzialmente paziente? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Clizia Puglier, referente del Centro. L'osteoporosi purtroppo colpisce nel mondo circa 200 milioni di donne. In Italia soltanto nel nostro paese 4 milioni e mezzo. Si stima che 100 mila fratture all'anno siano causate proprio dall'osteoporosi, fratture al femore. È una malattia un po' silente perché è asintomatica. Magari ci sono a volte alcune donne lamentano dei dolori osteoarticolari ma in realtà si manifesta proprio con le fratture. È una malattia che colpisce le donne soprattutto con la menopausa perché la mancanza di ormoni purtroppo favorisce il malassorbimento del calcio. Però colpisce anche gli uomini, questo pochi lo sanno, nel senso che chiaramente in età più avanzata, verso i 65-70 anni, però tutti siamo colpiti da questa osteopenia, cioè quindi questo naturale inizio di fragilità dell'osso. Il corso è rivolto ad ambo i sessi, uomini e donne dalla mezza età in su e si tiene due volte alla settimana all'interno del laboratorio movimento della RSA di Galantare, sia anche negli spazi all'aperto del parco della ex Villa Guerrini. Inoltre durante i corsi i partecipanti saranno formati anche con incontri sui sani stili di vita. Il nostro target è prevalentemente dai 46 anni in su, età in cui può iniziare appunto la menopausa. Uomini e donne, abbiamo anche degli uomini che hanno appena iniziato, però per esempio anche persone che vogliono avere delle informazioni per fare una prevenzione già anche in età, diciamo prima dei 45-46 anni, sono ben accette. Anche perché negli incontri parleremo dei sani stili di vita proprio in generale. Si può scrivere a promosalute.av1-sanita.marche.it e si può telefonare al numero 320 97 60 611.